Andiamo signora, avvicinatevi, oggi vendiamo tutto a metà prezzo. Maschere di ferro, la centri di castità, caschi, spade, la spa, comprate la spa, comprate le spade. Scusa, volevo uno scudo. Uno scudo? Ecco lo scudo. Grazie. Quanto è? Due scudi. Ok. Andiamo offerta speciale, tutto uno scudo, tranne lo scudo che l'ho data a due scudi. Come avete visto signore.